In tempi di vacche magre e di rosso fisso nelle casse pubbliche è chiaro che ogni opportunità di avere servizi gratuiti per un ente, in questo caso per il comune di Teramo, è ben accetta. Ma prima di affidare quei servizi ad associazioni di volontariato, bisognerebbe accertarsi del lavoro che queste svolgono realmente sul territorio. È così che si arriva allo strano caso della Gran Sasso d'Italia e dei locali che il comune di Teramo ha messo a disposizione gratuitamente alla Ollus nel Parco della Scienza in cambio di manutenzione, episodio che sicuramente è da inserire nel capitolo della superficialità da parte dell'amministrazione Brucchi. Sì perché la Ollus di Mosciano si occupa di protezione civile e non è un mistero e non di servizi di manutenzione e approdando nella città di Teramo andrebbe a violare il principio di territorialità perché nel capologo a Prutino il servizio di protezione civile è già svolto e da più di vent'anni dalla Cives. Io credo che questo sia un fatto, non dico dovuto, ma comunque necessario per il comune che in questo momento ha difficoltà, tant'è vero che noi per esempio utilizziamo gli LSU per fare le pulizie immobili. Se c'è un'associazione che si propone e noi non abbiamo fatto altro che accogliere la richiesta di questa associazione. Il presidente della Grande Gran Sasso che con comunicati si è vantato di aprire sul territorio Teramano 8, 9, 10 sezioni di voler coprire l'intero territorio Teramano devo dire che è caduto molto molto in basso. Ci sono le cooperative sociali, di lavori socialmente utili, benvengono queste cooperative e queste associazioni di volontariato. Nel caso specifico sembrerebbe invece che sia una associazione di protezione civile.